L'associazione culturale DILA da Ischia all'Arte arriva a Milano e anche a Milano quindi si parla della nostra isola. Bruno Mancini, com'è andata? Beh, è andata bene per quanto riguarda le nostre iniziative perché come penso che tu sappia noi abbiamo assegnato addirittura il Museo delle Culture di Milano, il MUTEC, che ha raggiunto un milione di visitatori nel giro di 4-5 anni ed è una cosa immensa, enorme, sull'EC San Saldo al centro di Milano, insomma una cosa di molto molto prestigioso. In quel locale, in quell'ambiente, nell'auditorium del MUTEC il Book City ha fatto in modo che venissero presentati soltanto sei eventi, uno di questi è il nostro e il nostro però è stato anche quello di maggior durata perché abbiamo avuto tre ore nelle quali ovviamente abbiamo parlato di Ischia, abbiamo parlato dei nostri progetti, abbiamo parlato dei nostri artisti presenti, passato e futuro. Ovviamente, Ciregina sulla torta, l'evento principale è anche, voglio dire, 8 milioni. 8 milioni è stato il principe effettivamente dell'iniziativa perché l'evento si chiamava 8 milioni in quanto ruotava intorno al libro Penne, Note e Matite che contiene i finalisti di 8 milioni. Finalisti che, inciso, vengono da 25 nazioni del mondo. Nel nostro premio hanno partecipato artisti di 25 nazioni del mondo, sia per quanto riguarda la grafica, sia per quanto riguarda la poesia, sia per quanto riguarda anche, abbiamo fatto quest'anno un premio di giornalismo e un premio di musica. Ovviamente si è parlato lingua straniera, soprattutto arabo, o comunque, voglio dire, tutto quello che ruota attorno alle nuove sedi che stai aprendo con questa bella iniziativa di DILA, no? Sì, in effetti lì c'erano gli algerini, c'erano gli egiziani e naturalmente c'erano anche alcuni della Lettonia, però noi stiamo aprendo adesso delle sedi operative in Argentina, in Brasile, nel Nicaragua, in Australia e in Egitto. Quali sono però i prossimi appuntamenti ad Ischia? Appuntamenti ad Ischia non ce ne saranno perché gli appuntamenti ad Ischia devono passare attraverso alcune amministrazioni, le quali amministrazioni più di una volta ci hanno lasciato con il cerino in mano, quindi non vogliamo correre nessun tipo di rischio sotto questo profilo, insomma.